140 casi su 5.694 tamponi processati, tasso di positività al 2,46%, questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico dell'11 giugno. I casi emersi dal report precedente erano stati 123 su 6.405 test con positività all'1,92%. Il totale dei contagi dal coronavirus registrati in Puglia sale a 252.020, di cui 14.347 attualmente positivi, 231.088 guariti e 6.585 deceduti. 7, di cui 5 provenienti dalla BAT e 2 dall'Eccese, sono i nuovi decessi. 530 sono i casi attivi in meno rispetto al 10 giugno, 663 sono i nuovi guariti. Cala da 332 a 294 il totale dei pazienti ricoverati, 14.053 sono i quarantenati. Su scala provinciale il dato più alto di giornata è rappresentato dai 38 nuovi casi emersi nel Barese. 94.872 il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. 26 sono i nuovi positivi sia nel Foggiano che nel Tarantino. 44.999 il totale della capitanata, 39.199 quello della zona ionica. 19.565 il dato complessivo della provincia di Brindisi. 22 i nuovi casi emersi l'11 giugno nella zona messapica. 18 sono i nuovi contagi nell'Eccese. 26.749 il totale della zona salentina. Dato più basso di giornata è quello della BAT, zona nella quale i nuovi positivi emersi sono 9 ed il totale 25.468. A chiudere il quadro un residente fuori regione. 2.561.176 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.